La vignetta di Vauro, pubblicata ieri su Il Fatto Quotidiano, vignetta che lo stesso autore, mettendo in guardia i lettori, ha definito fortemente sessista, ha creato un certo scompiglio. Ebbene, se devo dare un mio parere alla vignetta, così me la sbrigo in pochi secondi. A mio avviso, forse, era preferibile che l'autore si fermasse alla scritta e allora e non aggiungesse altro. Questo naturalmente era il mio parere, ma certamente io non mi sono scandalizzato, né per questa l'ho trovata una vignetta inopportuna. L'autore lo conosciamo e poi, insomma, chi fa vignette satiriche deve andare anche oltre i limiti. La satira è satira, insomma, non è bon ton. Ma non voglio parlare della vignetta in sé, bensì, Bauro, con appunto la sua vignetta, mi ha dato l'occasione di parlare di un argomento che non ho mai trattato, le donne in politica. Ebbene, preciso subito che tratterò l'argomento, limitando però l'analisi ai paesi, diciamo, più importanti. Allora partiamo dagli Stati Uniti. Come tutti sappiamo, i 46 presidenti degli Stati Uniti sono stati tutti maschi. La sola volta che al balottaggio è arrivata una donna ha perso contro tutte le previsioni. Ovviamente mi riferisco a Hillary Clinton, sconfitta da Donald Trump. Da due anni e mezzo negli Stati Uniti, per la prima volta, abbiamo un vicepresidente donna, Kamala Harris, che tuttavia ritengo di non mancarle di rispetto, dicendo che non si sta distinguendo in modo particolare. Ecco, detto che anche in Russia e in Cina non ci sono state donne ai vertici del paese, dobbiamo quindi riferirci alla vecchia e cara Europa per entrare nell'argomento. E allora, eccoci alla prima vera premier di un paese economicamente importante. È il 4 maggio 1979 e per la prima volta nella storia viene eletta una donna come primo ministro del Regno Unito. Si tratta di Margaret Thatcher. Non sarà la sola che passerà la storia non con il proprio cognome alla nascita, bensì con quello del marito. Lei infatti si chiamava Roberts, sposò Sir Dennis Thatcher, figlio di un emigrato neozelandese che probabilmente acquisì il titolo di baronetto per meriti militari, mentre Margaret Thatcher fu insignita del titolo nobiliare di baronessa due anni dopo che aveva concluso la sua carriera politica. Sir Dennis Thatcher era divorziato dalla prima moglie, quindi sposò Margaret in seconde nozze. Ebbene, gli anni 70, dal punto di vista economico, furono veramente nefasti per il Regno Unito. Il mai contento popolare era a livelli mai registrati in precedenza ed è in questo contesto che Margaret Thatcher vince le elezioni del 3 maggio 1979. Ebbene, nessuno in quel momento avrebbe scommesso un penny che la Thatcher sarebbe diventata la primo ministro in carica per più tempo nel Regno Unito. rimase in carica infatti al numero 10, quindi di Downing Street, per oltre 11 anni, dal 1979, come ben detto, fino al 28 novembre del 1990, quando diede le dimissioni, visto che era rimasta in minoranza all'interno del proprio partito, quello conservatore. Ebbene, senza così addentrarci nei suoi 11 anni di potere, possiamo senza dubbio dire che Margaret Thatcher fu una vera rivoluzionaria. Uso questo termine perché cambiò letteralmente il paese e fu certamente il politico inglese più influente dopo Winston Churchill. Personalmente, l'ho già detto in un altro video, ma comunque sono molto legato ad un discorso che la Thatcher tenne nel 1983 alla conferenza del proprio partito, in particolare in un passaggio che io ritengo storico. Una delle grandi discussioni del nostro tempo riguarda quanto del vostro denaro debba essere speso dallo Stato e quanto voi dobbiate invece mantenere e spendere per la vostra famiglia. Non dimentichiamoci mai questa fondamentale verità. Lo Stato non ha altre fonti di denaro se non nel denaro che la gente ha guadagnato per sé. Se lo Stato intende spendere di più, lo può fare soltanto prendendo in prestito i vostri risparmi o tassandovi di più. Non è un buon ragionamento ritenere che sarà qualcun altro a pagare. Quel qualcun altro siete voi. Ma in Europa dobbiamo anche ricordare un'altra donna che è risultata molto importante per il proprio paese pur non risultando una rivoluzionaria come la Thatcher. Mi riferisco ovviamente alla Germania e ad Angela Merkel. Anche lei è passata alla storia con il cognome del marito o meglio, del primo marito col quale è rimase sposata per brevissimo tempo insomma a meno di quattro anni mentre è tuttora sposata con il secondo marito da oltre 25 anni. Come sappiamo Angela Merkel era nata nella ex DDR e la famiglia era di origini polacche il nonno era polacco e si chiamava Kaczmierczak cognome che volle cambiare in Kaczner per renderlo un po' più tedesco. La Merkel divenne cancelliere nel 2005 in seguito ad elezioni che praticamente non avevano espresso una vera maggioranza una vera coalizione vincitrice dopo settimane di trattative alla Merkel fu attribuita la carica di cancelliere carica che poi mantenne per ben 16 anni. Ebbene questo ha in comune con la Thatcher cioè rimasta a capo del governo per un lungo periodo di tempo ma non fece altro che mantenere lo status quo della Germania all'interno dell'Eurozone. Tuttavia, innegabilmente, queste sono le due donne che hanno comunque lasciato un segno tangibile nella storia del loro paese. Le altre donne che hanno guidato governi mi riferisco in particolare ai paesi del nord Europa beh, sono state dei personaggi di secondo a volte anche di terzo piano. Ora ci abbiamo provato noi con Giorgia Meloni anche la nostra attuale Presidente del Consiglio ha assunto la massima carica governativa in un momento molto delicato e ci si aspettava da lei un cambio di rotta un cambio di rotta che non solo finora non si è visto ma al contrario al momento vediamo un'assoluta continuità con i governi precedenti. Ed anche l'attuale maggior partito dell'opposizione ha assegnato la segreteria ad una donna e la vignetta di Vauro, dal quale sono partito in questo video ha messo in evidenza che le due nonostante appunto una si trovi al governo e l'altra all'opposizione ebbene, le due hanno molto in comune. Peccato, l'Italia aveva bisogno di un cambiamento meglio ancora, di una rivoluzione sarà per un'altra volta.